Una gamba lunga che pende dal letto? Fai attenzione al mostro sotto il letto! Aiuto! La ragazza bassa sta dormendo molto bene! Nessun mostro le dà fastidio! Bene, è ora di mettere più schiuma e farsi una bella doccia! Se sei bassa, il soffione è perfetto per una doccia completa! Vai, Elvis! Anche la ragazza alta inizia la giornata con una bella doccia! Ma il soffione è troppo basso per lei! È una doccia per nani? Come posso sciacquarmi i capelli in questo modo? Ok! Non sono molto convinta del risultato! Oh, povera ragazza! Oh, mamma! Oh, mamma! Ho bevuto troppo acqua! No! Perché? 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 È disgustoso! Ok, ok! ok ok non ci arrivo come posso fare tu sai cosa devi fare amica mia ok oh mamma mamma dai anche la ragazza alta ha bevuto troppa acqua oh mamma che cosa e ciao l'ho trovato da non credere scusa mi dispiace tranquilla sono comoda anche così guarda chi è pronta per una bella nuotata in una vasca da bagno davvero è molto determinata bene dai facci vedere qualcosa piccolina wow un tuffo perfetto dieci punti sei stata davvero brava i bagni delle ragazze alte sono leggermente diversi da quelli delle ragazze basse c'è più meditazione da fare qui e allungare le gambe la festa inizierà presto ma le ragazze devono farsi ancora trucco e parrucco com'è il mio rossetto? va bene? cosa c'è che non va? è troppo meraviglioso forse un po' sbavato ma stai benissimo è l'ora della festa! festa 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 è il mio turno! limbo! limbo! ora tocca la ragazza alta proviamo di nuovo un'altra volta ehi ragazzo prova un po' più in alto oh no non è di aiuto e sta bloccando il gioco gli altri vogliono giocare il limbo non è per lei limbo! 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 noioso una buona colazione è il pasto più importante della giornata la ragazza bassa sa che il latte fa bene alla crescita ma c'è un problema non riesce a raggiungere nulla un secondo un cuscino un altro un terzo sì! è molto meglio! buon appetito! buongiorno! ciao! vieni a fare colazione con me la ragazza alta ha le gambe lunghe e il tavolo è piuttosto piccolo sembra sia stata una cattiva idea oh no la ragazza bassa sei nervosita ops scusa e guerra guerra con il cibo sono in ritardo sono in ritardo sono molto in ritardo questo no questo neanche no no ehi! prova la mia gonna e la mia camicetta starai benissimo veramente posso prenderli in prestito immagina quanto sarai fantastica con quei vestiti quel ragazzo sarà ammagliato dalla tua bellezza non sopra resisterti si innamorerà di te sì! proviamoli! oh no! le maniche sono troppo lunghe e la gonna sembra uno spaventapasseri guarda quelle maniche lunghe oh no! non ho niente da indossare classico giochiamo uno oh nascondino il gioco preferito delle ragazze quattro la ragazza bassa deve trovare un posto perfetto no troppo ovvio che cosa? un palo? non puoi nasconderti dietro il oh puoi? sette otto ti sei nascosto di nuovo dietro il palo? davvero brava oh sa dove mettermi cento mi chiedo dov'è è impossibile trovarla ehi piccoletta vieni fuori non sto più giocando brava piccolina non ti troverà mai ora è il mio turno uno due tre qui non funzionerà so cosa fare proviamo l'armadio ai no è troppo piccolo pronto o no? sto arrivando scontato qualcuno le dirà che il gioco è finito wow bel lavoro piccolina tutto brilla ciao no 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 fermati che cosa? ho appena pulito il pavimento scusa fuori piove va bene se vuoi mi tolgo le scarpe bagnate oh no l'acqua sta aumentando sembra che lei abbia portato a casa l'intero oceano con le sue scarpe grandi faresti meglio nuotare ragazze la 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 è una vera macchina o un giocattolo? riesco a male appena infilarci la testa oh aspetta è una cabrio posso toccare il cielo ora sono un genio sì basta non parcheggiare sotto un ponte genio questa ragazza è fortunata ha le braccia lunghe e può raggiungere tutto il parabrezza ora è pulito buon viaggio poi hai dimenticato di pulire altre parti sei mai salita in macchina e ti sei resa conto che è tutto troppo grande per te? hai la normalità per lei ci ha fatto l'abitudine non riesco a vedere niente nessun problema un cuscino dovrebbe funzionare o un altro o un altro molto meglio andiamo raggiungere i pedali è necessario se vuoi guidare puoi provare la bicicletta magari finalmente è arrivato la piccola è molto agitata ciao wow la ragazza non era preparata per questo ragazzone ma è molto carino un bacio forse è meglio un abbraccio il primo appuntamento è sempre un po' imbarazzante ma sono una coppia davvero carina e vi sono per sempre felici e contenti i film romantici fanno piangere le ragazze soprattutto queste due dammi un fazzoletto per favore ecco qui fantasma fantasma oh mamma vattene è solo la piccolina il fazzoletto è un po' troppo grande per lei fare i selfie è una vera sfida per queste due o la ragazza alta non entra nell'inquadratura o la ragazza bassa sembra ehm troppo bassa non sta funzionando abbiamo bisogno di un bastone per i selfie o qualcosa del genere ah certo ho un'idea guarda questo wow non serve un bastone per i selfie quando hai le gambe lunghe te l'ho detto che sono un genio